E' Natale, tutto tace, c'è qualcosa nella braccia, non è pollo né tacchino, diventa un cane canterino. Chi dar luce non potrà, il regalo non riceverà. Il regalo è un maglioncino, tieni il pacco e lo scontrino. Lo scontrino è scolorito, l'etichetta fa prurito. L'usignolo 4x4 ha chiamato pure il gatto. Il gattino è dentro al campo, corre corre come un lampo. Poi lui prova a ber la zuppa, c'è Salvini con la ruspa. Ma che fai, ma cosa pensi? C'è chi dice viva Renzi. Basta, basta, coi cenoni è arrivato Berlusconi. Lui ti dice che sei in lista, ma non entra un comunista. A Natale, senza armi, maleurla di uno sgarbi. Il video è finito, ovviamente non è di propaganda politica, poiché a me non interessa veramente nulla. In ogni caso scrivete nei commenti il regalo non-sense, quindi senza senso, che vorreste ricevere a Natale. Naturalmente qualcosa di originale, perché verrà inserito nel prossimo video casualmente. In una parte, totalmente a caso, non si sa. Verranno scelte 4 persone. 4 come i canti che si fanno a Natale. 4 come i giorni della settimana. 4 come i mesi dell'anno. 4 come e ciao a tutti. Da visto, avvistato.